nei prossimi giorni sulla mia pagina facebook usciranno tantissimi link a video didattici presenti su youtube ognuno di questi video rappresenta un esempio di risorsa didattica preziosa e utilissima per noi insegnanti forse non lo sapete ma youtube è piena di canali affidabili e sicuri che pubblicano centinaia e centinaia di video per la didattica ad esempio molte case editrici hanno il proprio canale youtube e pubblicano materiali gratuiti a disposizione di qualsiasi insegnante o studente indipendentemente dal fatto che si abbiano o meno libri di testo di quella casa in adozione moltissime riviste di settore e divulgatori usano video per dare spiegazioni al grande pubblico spesso corredate da grafiche e animazioni che potenziano e migliorano la comprensione dei concetti di cui vogliono parlarci il canale grafico poi accompagnato dalle voci della narrazione è uno strumento potentissimo per compensare le difficoltà di lettura decodifica del testo scritto comprensione e concentrazione degli studenti ci sono anche moltissime risorse educative che possiamo usare per potenziare le lingue straniere o per aiutare gli studenti non italofoni iscriversi a youtube permette a noi insegnati di organizzare tutti questi video in playlist pronte all'uso che ci permettono di ritrovare poi velocemente tutto ciò che cerchiamo e condividerlo con i nostri studenti sapere quali canali seguire e come iscriversi per non perdere le uscite di nuovi video è fondamentale e ormai una competenza innegabilmente utile per qualsiasi docente i video di youtube che selezioneremo insieme potranno essere condivisi con i nostri studenti tramite classroom canva thing link e tantissime altre app che impareremo a conoscere insieme i video possono inoltre anche essere ritagliati e condivisi solo parzialmente nel caso ci interessi che gli studenti si focalizzino solo su una parte di essi senza perdere tempo sul resto anche questo lo impareremo insieme iscriviti a questo canale youtube con il tasto proprio sotto questo video per non perdere i prossimi tutorial su come usare youtube a scuola ti insegnerò tutti i trucchi e ti darò tanti suggerimenti per utilizzare youtube in classe con i tuoi studenti grazie a tutti grazie a tutti